Lei è la mia rinuncia più grande. Non c'è stato niente. Ma accogliente significa molto. E che alle volte ho come l'impressione di essere sempre stata nei suoi pensieri. Cosa non è? Il fatto è che io e Silvia siamo legati per la vita. Non mi scludere dalla tua vita, ti prego. Rivederla senza provare c'entra emozioni non è possibile. Tu non sai quante volte mi sono rifugiato nel ricordo di noi due. Cosa? Tu non sai se Federico è mio figlio oppure no, Silvia? Non distrugge pensare a chi sarà da solo a sostenere tutto questo. Stare lontani da chi si ama è una dura prova. Tutto il giorno che penso a come farebbe andare avanti senza di te, mi sono giunto a una conclusione. Io non ho mai smesso di amarti. Io ti amo, Gaglia. Io non ci riuscirei. Continuerò ad amarti così. Sognandoti. Eppure non riesco a pentirmi di quello... di quello che provavo per te. Cerca di essere felice. perché tu lo veresti più di chiunque altro. Ti porterò sempre negli occhi. Con un'unacrima che non vuole capire. vorrei che ci fosse un'altra vita per noi. Sono così contenta di viverti. Anch'io. Una vita in cui e te siamo una coppia normale. in cui io torno da lavoro... e a casa ci sei tu... e mi aspetti per cena. Puoi tenermi lontana quanto vuoi. Ma se la mia vita andrà avanti o resterà legata alla tua, o a sarò e abicidè. Non voglio più stare al lontuendote. C'è un asco. È questo per il cammino? Sì. Non c'è nessuno per il cammino.